Una manifestazione importante per sostenere i giovani musicisti, un appuntamento a cui non mancare, è così? Assolutamente sì, dalla mia esperienza anche io fui giovane, come dico sempre, ho dovuto sgomitare per crearmi il mio spazio. Nel settore musicale in Sicilia mancano dei supporti e dei servizi per i giovani artisti che già si cimentano e sono anche giovani contautori ma non hanno la possibilità di esibirsi o non hanno neanche una struttura di riferimento per poter anche incidere ed essere supportati in questo. Il nostro progetto, la Casa del Musicista, ha questo obiettivo, garantire un pacco scenico ai giovani talenti e metterli anche in contatto con il mondo dello spettacolo, di quello che conta. In questa azione abbiamo avuto e abbiamo il sostegno anche di Red Ron e di Grazia Di Michele che hanno fatto questo casting per selezionare intanto i primi 15 giovani che si esibiranno con noi in tutta la Sicilia. Cambiamo argomento, è pronto a candidarsi per le regionali? Io sono qua in veste di cantautore oggi, posso semplicemente dire che già questo è un argomento superato perché già ho annunciato che sono candidato.